Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui Qui su Radio S è arrivato il momento delle tre minuti con chi sarà l'ospite di oggi, sentiamo Radio S The sound sensation across the nation Siamo qui con Gabriele Salvatores, questo progetto della Happy Family Non è la stessa cosa forse alle sale, ma c'è una piccola emozione anche per il DVD e adesso per il Blu-ray? Come no, certamente sì, anche perché uno non si immagina nella quantità di persone che vedono i film in DVD o in Blu-ray invece che al cinema Per esempio quelli che hanno più o meno la mia età, che hanno figli, cose eccetera, per cui è difficile che escano in casa Cioè quelli di Marrakesh Express, il pubblico di Marrakesh Express magari si vede Happy Family in Blu-ray, quindi molta emozione Ma si scatena quella logica delle statistiche come succede nelle sale o è tutto molto più tranquillo? È più tranquillo, però è più tranquillo perché ancora non è un uso così ampio Però io credo che si arriverà addirittura ad avere la sala come momento fashion, diciamo esplositivo del progetto E sempre di più si arriverà ad avere l'on video o la televisione on demand e quindi bisogna cominciare a pensare a questa possibilità E anche ad avere delle critiche per i Blu-ray, delle riviste, ma ci sono già però eh, DVD e Blu-ray, riviste specializzate eccetera Lei quindi non crede che i Blu-ray e i DVD sostituiranno la sala? Non totalmente, non totalmente, la sala rimarrà credo sempre, diventerà una scelta più speciale come una specie di club privilegiato Però sicuramente, sicuramente non possiamo non considerare il futuro del non video, sarà sempre di più così Io poi so che gli esercenti non sono d'accordo, ma io poi sarei favorevole addirittura ad un'uscita contemporanea Sale, Blu-ray, DVD e pay TV assolutamente Senta, progetti per il futuro? Sì, stiamo scrivendo questo film tratto da un libro che si chiama Educazione Siberiana È una storia molto forte, è molto fredda perché andrò a girare lassù, no? È molto calda invece di sentimenti, è una storia romantica e forte di ragazzi cresciuti in questa comunità criminale, onesta Loro si definiscono criminali onesti e siberiani, vedremo, speriamo bene Una battuta sugli Oscars, possiamo sperare su un film italiano? Ce n'è tanti di film italiani che possono interessare il pubblico americano e in particolare i membri dell'Academy Quindi io spero proprio di sì, io per quella piccola esperienza che ho di questa cosa Mi permetterò di indicare i film che secondo me possono anche avere una chance di essere scelti E non solo quelli che mi sono piaciuti